Siamo qua da due giorni già, stiamo lavorando bene, stiamo lavorando forte, stiamo seguendo le indicazioni del mister. Sicuramente è un momento molto importante perché in questi 4-5 giorni abbiamo ripreso dopo una sosta e abbiamo già la testa al Perugia perché dobbiamo ripartire subito forte. Il bilancio di questi 6 mesi penso sia in linea con quello che dovevamo fare. Sicuramente ci sono stati dei momenti difficili dove siamo stati compatti, siamo stati uniti e abbiamo portato alla fine i risultati che servivano. C'è stato un momento di assestamento ma insieme, grazie al valore del gruppo, siamo riusciti ad andare dove dovevamo andare. Invece per quanto riguarda il mio bilancio personale dei primi 6 mesi, posso dire che sono arrivato in una grandissima società con un grande mister e un grande staff dove lavoriamo tutti i giorni forte in maniera costante e per quanto riguarda il ruolo del portiere, come si sa è un po' un lavoro a parte che facciamo con il mister Michele Marotta e Lo Calbo. Mi trovo veramente bene perché io insieme a Samuele, a Grotta, lavoriamo insieme e veramente si è creata un'alchimia importante. Per il resto personalmente in città mi trovo davvero da Dio con la mia famiglia e speriamo in un 2023 ancora migliore. Da questo 2023 sicuramente mi aspetto di continuare come abbiamo finito il 2022 con delle belle prestazioni di squadra e raggiungere il prima possibile, il primo obiettivo che ci siamo fissati tutti quanti. La presenza della dirigenza del City Group si vede, si sente, ci mettono a nostro agio e a disposizione tutte le cose di cui abbiamo bisogno e anche giornalmente al campo ci fa sentire la sua presenza. Volevo fare un grande augurio a tutti i tifosi del Palermo per questo 2023 e speriamo di festeggiare e di gioire tutti insieme allo stadio.